Come sta cambiando l'oncologia grazie agli ultimi risultati della ricerca clinica? Si va verso trattamenti sempre più specifici e mirati, con terapie e farmaci innovativi che contrastano la malattia in maniera efficace e allo stesso tempo migliorano rispetto al passato la qualità di vita del paziente sottoposto alle cure. Il punto della situazione è a Barletta, con i massimi esperti in campo oncologico, che per due giorni si confronteranno nel congresso scientifico organizzato dal dottor Gennaro Gadaleta, direttore dell'unità operativa di oncologia dell'ospedale di Miccoli. Ci sono stati grossi cambiamenti, o meglio ci sono stati miglioramenti. I farmaci piano piano hanno arricchito le nostre possibilità di cura, quindi rispetto alla tradizionale chemioterapia siamo partiti con la terapia bersaglio molecolare, poi l'immunoterapia e oggi una nuova frontiera è quella dei farmaci anticorpo coniugati, cioè la possibilità di arrivare all'interno della cellula tumorale attraverso un anticorpo. Sostanzialmente il farmaco è legato all'anticorpo, l'anticorpo va sulla cellula attraverso un'interazione anticorpo-antigene e quindi il farmaco entra in quella cellula in maniera selettiva, quindi superando quel concetto vecchio della chemioterapia dove c'era una scarsa selezione per cui la chemioterapia poteva, come dire, distruggere sia cellule tumorali sia cellule sane. Trattamenti sempre meno invasivi per i pazienti ed in grado di ridurre la mortalità in molte neoplasie, un'evoluzione intercettata anche dagli ospedali e dalle equip sanitarie che operano nella BAT. Noi nel nostro reparto di oncologia di Barletta siamo molto attenti alle innovazioni terapeutiche, siamo stati un po' un gruppo di medici questi giorni al congresso europeo di oncologia che si è tenuto a Madrid in Spagna, quindi cerchiamo di seguire gli aggiornamenti di questa patologia, dei trattamenti di questa patologia e cerchiamo di portarli quanto prima possibile, perché ovviamente poi c'è un percorso anche burocratico dell'FDA, dell'EMA, dell'AIFA, quanto prima possibile cerchiamo di portare i trattamenti, i nuovi trattamenti ai nostri pazienti nella pratica quotidiana e cerchiamo di allinearci con tutti i grossi centri attraverso l'aderenza alle linee guida che le società scientifiche ci propongono, per cui cerchiamo di far sì che il trattamento che si fa a Barletta è identico a quello che si fa a Milano, Torino, Roma, eccetera.